Non è solo la camminina. Revolete anch'io ieri sera o stamattina. Va bene, perché non danneggi un giocatore e la società. Vi torna il nome di Raio da ferro. Sì, va bene, mi ha fatto anche una buona operazione a Raio. Grazie, scusate. Sulla giornata di oggi è quando è stata comunque contenta. Un incontro con... No, adesso, certamente, credo che sia un modo anche per vedersi ogni tanto e questo fa sempre bene. Lei cosa pensa che dirà? No, no, niente, non ci ho pensato. C'è stata un po' di operazione per Mourinho che ha rotto il silenzio stampa sulla gazzetta? No, sinceramente non sono formalista fino a quel punto. Sente la responsabilità per l'Inter in Champions, l'unica squadra italiana ancora in corsa? No, responsabilità che avevamo anche prima e non cambia molto. Sergio? Ma lei non ricordo se il calcio italiano sia un po' in crisi. Beh, appena inizia una partita non sia più in crisi. No, non è. No, capita di incontrare il calcio incese, è un calcio difficile, specialmente quando si gioca l'è. E quindi sarà difficile per noi come è stato difficile per gli altri, insomma. Anche il calcio spagnolo in questo momento, a dirà del Vercelone. Considerando le critiche che aveva avuto l'anno scorso l'Inter, perché aveva perso contro il Manchester, mi sei visto quest'anno poi. Grazie Capitano. Grazie Capitano. Grazie. Grazie.